Diciamo che è stata un'azione preparata, ne stanno la palla buttata, era un'azione preparata in settimana, con palla dietro e il rimorso arrivava alla mezzala, in quel caso stavo io e ho fatto un gran gol. Sì, sono contento più che altro per la vittoria, perché alla fine vinciamo tutti insieme, uniti, si è vista anche la reazione, dopo l'1-1 a freddo così, siamo riusciti a ripartire, a mettere palla a terra e arriva 2-1-3-1. Sì, diciamo che all'inizio comunque, come penso capita a tutti, c'è un periodo di adattamento, comunque non conoscevo nessuno della squadra, quindi pian piano mi sono inserito in punta di piedi, correndo, allenandomi settimana dopo settimana e pian piano mi sono inserendo nei miei peccanismi nel mister. Però l'importante è portare a casa i tre punti, al di là degli obiettivi personali, dobbiamo rimanere tutti dalla stessa parte per l'unico obiettivo. Il mister, in pratica, vedendo Marchi, la metà da sinistra e a Rieti, che comunque ha esperienza, ha messo me da questo lato, magari riuscivo a rigenerlo con l'esperienza e penso di essere riuscito bene. Abbiamo portato a casa i tre punti e quello che conta è questo, poi ripartiamo da martedì, più carichi che mai, per la partita col Foligno. Assolutamente sì, perché venire qua a Rieti e portare via i tre punti non è cosa di tutti i giorni, loro sono una squadra molto organizzata, è un campo molto ostico, quindi abbiamo fatto una grande prova di carattere, al di là del bel gioco, quello che conta sono sempre tre punti, la classifica e quindi va bene così.